Ciao, e allora come già annunciato il 12 maggio il video dei Simpsons che è stato il primo diciamo ufficiale quello che ha fatto scoppiare tutto, compie un anno, già un anno, quindi farò una specie di... mi è stata proposta a dire la verità, una collaborazione barra concorso una collaborazione con Master Musica 93 che è un ragazzo musicista che suona al piano e quindi lui nel suo canale caricherà un video in cui suonerà al piano 5 canzoni Disney voi dovrete indovinare ovviamente quali sono queste 5 canzoni io sarei stato più cattivo e avrei detto di dire proprio i titoli anche delle canzoni oltre al film da cui sono tratti però lui che è un po' più buono ha detto bastano ha già fatto un vlog lui perché è in merito e ha detto bastano i titoli dei film e quindi va bene bastano i titoli dei film questo è solo l'annuncio, il video verrà pubblicato sul canale di Master Musica 93 il giorno 13 maggio mi ha detto, per tutte le info, dettagli eccetera guardatevi già il vlog che ha fatto lui e tra tutti quelli che risponderanno esattamente con tutti e cinque i titoli corretti in ordine potranno chiedermi delle dediche brevi personalizzate con la voce, con le voci che preferite ovviamente tra quelle che mi vengono un po' meglio siccome come avevo già detto tempo fa ricevo parecchie richieste e non ho più tempo purtroppo di accontentare tutti allora ogni tanto organizziamo questi piccoli concorsi e spero sia cosa gradita quindi partecipate numerosi ah hai visto che il vlog è stato breve facciamo anche qualche salutino che mi è stato chiesto allora saluto Poi abbiamo una coppia e sono Raffaella Messinese e William Catanese che festeggiano un anno e mezzo, un anno e sette mesi circa insieme ah il saluto anche Sara Lafronza che in realtà mi ero dimenticato quando ho girato il video infatti se notate in realtà sto dicendo altre cose e mi sto ridoppiando però comunque ecco ho tentato di inserire anche questo saluto ecco dovevo salutare Sara Lafronza ecco l'ho fatto poi altri che hanno anche un canale YouTube Stepix Ferrara se volete andarlo a visitare e se vi piace la musica elettronica il canale di Giampaolo Rosa poi Claudio Spitale del canale CaculoTube o Caculo? Marta da Pisa che ha il canale Marta C dove fa un po' di tutto fa vlog simpatici interpreta, recita, fa un po' di vocetta anche lei rivisita canzoni Disney quindi andate a visitare Marta C e due miei amici che hanno anche loro dei canali molto interessanti il primo fa recensioni si chiama Mattia e il canale è Matt e Crutch abbiamo anche collaborato insieme un po' di volte perché lui ha fatto ad esempio la recensione su tutta la trilogia di Toy Story e ha fatto anche una simpatica intervista con i personaggi dove io ho fatto le voci stessa cosa per il Re Leone e invece l'altro canale è del mio amico Marco Bonardelli che fa interviste a personaggi dello spettacolo il canale si chiama Luci della Rivalta prevalentemente interviste a attori doppiatori in cui io spesso recito cioè no recito leggo, faccio da speaker per l'introduzione all'intervista quindi collaboriamo spesso insieme e andateli a visitare tutti i link in descrizione grazie a tutti